Professore, ma delle opere pubbliche di Solovaca abbiamo menzionato il ponte che però è storia, l'ufficio postale, l'acquedotto, ma la strada pedemontana da chi è stata progettata? Dalla sua amministrazione o da quella successiva? Dalla sua. Progettata da voi e realizzata da Claudio Maggiari successiva. Chi è che ebbe l'idea di fare la pedemontana? L'amministrazione. In un certo punto fu assegnato in tutti i coloni d'Italia, un mediano, una somma consistente, e noi come amministrazione allora puntavamo sulla pedemontana per intercettare tutte quelle strade che attraversavano il paese però sfociavano nei valloni e montagno praticamente. Sì.